Stefania Pucciarelli, candidata per la lista Lega Nord, perché ho deciso di metterci la faccia e di scendere in campo per i regionali di maggio? Perché credo che sia arrivato il momento di ridare dignità alla nostra regione, al nostro turismo, al nostro commercio, alla nostra sanità. Da troppo tempo la nostra regione è ritornata ad essere a livello delle regioni del meridione, la nostra sanità ha dei tempi d'attesa che sono improponibili, il nostro commercio sta morendo e il nostro turismo non è degno di una regione come quella della Liguria. Quindi nel momento in cui dovessi essere eletta, massima priorità e massimo sforzo per trovare tutte quelle risorse a sostegno delle imprese, specialmente le imprese che nasceranno grazie alla volontà di giovani al di sotto dei 35 anni, oppure a persone che sono in cassa integrazione e mobilità, cercare di dare tutti gli incentivi possibili in maniera tale che possano aprire delle attività nel nostro territorio. A massimo sostegno anche alle famiglie che hanno disabili in casa, perché una famiglia che ha un disabile ha bisogno di avere tutti i contributi, tutto il supporto possibile sia dalla regione che dello Stato. È ora anche di dire basta a tutto quello che noi possiamo vedere in giro, che può essere il degrado, per cui la nostra regione deve essere di nuovo portata ad essere splendente e ad essere degna di quella bellezza che la natura ci ha offerto. Basta fenomeni legati anche alla microcriminalità, per cui saranno impiegate risorse, proprio per incrementare tutto quello che è la sicurezza.